Permetto di dire una convergenza degli obiettivi, una condivisione delle strategie e anche una sinergia nel metodo di lavoro che vogliamo mettere in campo per dare una svolta a tanti modi risolti. Questo credo che sia un valore aggiunto, una buona notizia per i cittadini e le istituzioni nel rispetto delle cittadine autonomie, però collaborano a portare i problemi. E anche se ci credo che su tanti temi c'è una convergenza degli obiettivi e una condivisione delle visioni e delle politiche che vogliono essere in campo. Questo è un grande valore per la nostra comunità, insieme, come ha detto il Sindaco, abbiamo tra l'altro una fronte degli anni carichi di opportunità, il Next Generation U, il grande appuntamento tutelare che c'è, la candidatura di Roma all'Expo. Quindi noi abbiamo davanti una faccia nella quale le opportunità non mancheranno. Quello di cui loro c'è bisogno, noi vorremmo fare questo, è quello di collaborare per prenderne tutte, trasformarle in semplicità della vita di Romagna, in opere pubblici, in aggiornamenti della qualità della vita, in funzione, le cose che ha detto il Sindaco. Il patto con Roma è questo come reale, cioè quello di mettere in sinergia due squadre che nella riciclo di autonomia dovranno garantire buona qualità del governo, ma i punti di convergenza lavoreranno guomito a guomito per fare presto, fare bene e fare di tutto affinché le persone, i cittadini della città, lo percepiscono come un valore aggiunto.